benvenuti oggi abbiamo l'ambizione di riportarvi indietro nel tempo di ben sette secoli e quella ancora più grande di raccontarvi la vita dell'uomo che è universalmente riconosciuto come il padre della letteratura italiana e non solo come l'autore di un capolavoro che ancora oggi dopo tanto tempo è studiato sviscerato discusso nelle università di tutto il mondo e che è fonte di ispirazione per artisti musicisti attori oggi vi raccontiamo la vita di dante alighieri o meglio di durante degli alighieri detto dante per raccontare la vita di dante ovviamente ci vogliono delle informazioni e quelle informazioni possono arrivare soltanto dalla sua epoca dice mai pieno di libri che raccontano la vita di dante sì ma tutti si basano sulle informazioni che i suoi contemporanei ci hanno trasmesso quello che non ci hanno detto loro noi non lo sappiamo e non lo sapremo mai sono quelle che noi storici chiamiamo in gergo le fonti una fonte è qualunque cosa che ci sia stata trasmessa dall'epoca che vogliamo ricostruire anche gli oggetti sono fonti un fiorino d'oro o una torre di firenze sono fonti naturalmente ma è chiaro che per ricostruire la vita di dante le fonti più importanti sono quelle scritte che sono di tanti tipi ci sono i documenti conservati negli archivi uno chiama il notaio per stipulare un contratto di matrimonio oppure c'è il verbale di un consiglio in cui dante si è alzato a parlare poi ci sono le cronache e quello che succede quando una persona dell'epoca nella tranquillità del suo studio si mette a scrivere per tramandare ai posteri cioè a noi la sua memoria e la sua interpretazione delle cose che sono accadute alla sua epoca e poi ci sono le vite di dante le prime voglio dire perché già i suoi contemporanei avevano capito benissimo di aver conosciuto un uomo eccezionale che avrebbe continuato a suscitare interesse nei secoli e quindi si sono messi a scrivere la sua vita quindi noi abbiamo una collezione di testimoni gente vissuta all'epoca di dante o poco dopo che ci ha trasmesso le notizie che noi possediamo su di lui e questi testimoni noi qui in televisione ci siamo permessi di farli interpretare da un cast di attori questi due sono giovanni e filippo villani zio e nipote giovanni villani è forse il più grande cronista fiorentino dell'epoca il nipote filippo è già un uomo di un'altra generazione appartiene già a quei circoli di umanisti che guardavano un po dall'alto in basso i vecchi tempi medievali dello zio giovanni e di dante alighieri questo invece lo conoscete tutti perché giovanni boccaccio l'autore del decameron che però non è soltanto un grande scrittore è un prete fra le altre cose anche se pochi lo ricordano ma è anche uno dei primi grandi studiosi di dante a boccaccio il comune di firenze ha dato un certo punto l'incarico di fare lezione in pubblico sulla divina commedia e boccaccio è l'autore di una delle prime vite di dante questo invece leonardo bruni è un uomo vissuto un po più tardi in pieno 400 un umanista cancelliere della repubblica fiorentina in quanto cancelliere apriva i cassetti segreti conosceva un sacco di documenti ha visto delle lettere di dante scritte di suo pugno che noi daremmo chissà cosa per averle ma non le abbiamo più con questo signore invece torniamo indietro nel tempo non è molto conosciuto anzi lo conosciamo soltanto noi specialisti è un notaio un notaio di prato jacopo di pandolfino e questo è dino compagni l'altro grande cronista fiorentino dell'epoca coetaneo di dante e suo compagno di partito che dopo la sconfitta disastrosa che a dante costa l'esilio ea lui dino compagni costa la fine della carriera politica si ritira a casa a raccontare la sua versione degli avvenimenti drammatici della firenze dell'epoca ok non sono abituato io vedi già cavalier muover campo quella fu la prima volta quando agli miei occhi appare che si sente loro anche dante ha scritto tante cose che a noi servono per ricostruire la sua vita però in questo caso non ce ne siamo sentita di far impersonare dante da un ottore abbiamo preferito affidare le sue parole alle voci collettive di tanti appassionati lo devo rifare da capo a faccio l'ultima bene è ora di cominciare il nostro racconto e lo faremo nel modo più ufficiale possibile quello anagrafico proviamo quindi a compilare la carta d'identità di dante alighieri partiamo dal primo punto il nome vabbè dante si chiama dante questo lo sanno tutti ma forse non tutti sanno che dante è un diminutivo una contrazione di durante oggi sono nomi piuttosto rari dall'epoca invece erano molto comuni specialmente a firenze e si vede nei documenti che la stessa persona regolarmente è chiamata in certi casi durante e in certi altri più semplicemente dante era una moda nella toscana di allora ridurre così accorciare così i nomi propri la nostra città era piena di ulivieri che tutti chiamavano vieri di raneri diventati neri buon accorso buon accorso che diventava corso ah già e baldo corrado che diventavano duccio malduccio corraduccio duccio va bene zio e francesco che diventava cecco beatrice bisce e giovanni vantino si è bello e capito come va la faccenda maso tommaso diminutivi a parte bisogna dire che sei fiorentini di quell'epoca avevano il gusto dei nomi insoliti la famiglia di dante in questo non era seconda a nessuno basta scorrere la genealogia per rendercene conto cacciaguida il trisnonno alighiero il bisnonno preitenitto il fratello del bisnonno bellincione il nonno alighiero il babbo e poi gli zii paterni burnetto drudolo belluzzo più comuni gherardo e donato e veniamo al cognome alighieri che deriva dal nome di battesimo del bisnonno di dante alighiero appunto il cognome oggi è una cosa banale ce l'abbiamo tutti ma all'epoca non era così nella firenze di dante la maggior parte delle persone erano conosciute semplicemente col proprio nome di battesimo e quello del padre giovanni di bartolomeo avere un cognome voleva dire appartenere a una famiglia voglio dire a una famiglia influente che contava qualcosa che quindi i concittadini identificavano distinguevano dalle altre i brunelleschi i tornabuoni i donati non è che ci fosse un anagrafe attribuire il cognome era semplicemente l'uso dei concittadini che distinguevano le persone qualunque e quelle che invece contavano qualcosa e in certi casi bastava appunto che un uomo diventasse abbastanza conosciuto perché tutti i suoi discendenti prendessero nome da lui come è capitato a noi lo zio si chiamava giovanni di villano distordo e io sarei filippo di matteo di villano ma siccome sia famosi modestamente ci chiamano i villani dante era orgoglioso di appartenere a una famiglia che aveva un cognome e da quattro generazioni infatti se lo fa raccontare per filo e per segno dal trisnonno cacciaguida quando lo incontra in paradiso ma noi come facciamo essere sicuri che a firenze si diceva davvero gli alighieri il primo documento che lo dimostra e del 1260 e il cosiddetto libro di montaperti e cioè il codice in cui sono stati rilegati i registri dell'esercito fiorentino catturati dai senesi alla grande battaglia di montaperti in cui appunto l'esercito fiorentino subì una devastante sconfitta lì fra tutti i cittadini che facevano parte di quel disgraziato esercito è elencato anche uno degli zii di dante burnettus de alageris burnetto degli alighieri ecco questa è la dimostrazione che a firenze effettivamente dicevano gli alighieri non voleva dire che fossero nobili ma era l'emergere dalla massa mancavano cinque anni alla nascita di dante nacque questo singolar splendore italico nella nostra città negli anni della salutifera incarnazione del re dell'universo 1265 e voi vi chiederete come faccio a saperlo beh me l'ha raccontato un valente uomo chiamato serpiero di messer giardino da ravenna il quale fu uno dei più intimi amici e servitori che dante ebbe in ravenna serpiero mi ha raccontato che dante inchiodato nel letto dalla malattia di cui sarebbe morto gli disse di aver compiuto 56 anni a maggio e siccome è morto il 14 settembre 1321 doveva essere nato nel maggio 1265 il giorno non si sa ma era dei gemelli durante di alaglieri degli alaglieri alias dante alighieri è nato dunque a firenze nel 1265 dei suoi genitori sappiamo poco dante non ne parla mai in nessuna delle sue opere e può anche darsi che li abbia malapena conosciuti il padre aveva almeno 40 anni e forse anche di più quando lui è nato il padre suo al di ghieri perdene la puerizia la puerizia secondo sant'agostino va dai 7 e 14 anni quindi la cosa è chiara dante era ancora un bambino quando morì suo padre e la mamma di dante di lei conosciamo a malapena il nome e lo conosciamo perché c'è un documento che è stato scritto parecchi anni dopo quando era già morto anche dante e i suoi figli si sono divisi l'eredità e in quel documento è menzionata anche la dote della nonna la mamma di dante appunto così impariamo che si chiamava bella monna bella il cognome però non ce l'ha detto nessuno e non lo conosciamo è morta probabilmente quando dante era molto piccolo perché il papà ha fatto in tempo a risposarsi e a fare degli altri figli è probabile che dante non avesse neanche un ricordo di sua mamma per quanto ne sappiamo potrebbe anche darsi che il bella sia morta di parto proprio dando alla luce dante è una cosa che capitava in passato ma di questa donna di cui nessuno sa niente il boccaccio si è inventato una storia favolosa e cioè che quando era incinta di dante stava per partorirlo la mamma ha fatto un sogno premonitore che le annunciava che suo figlio sarebbe stato un uomo eccezionale come succedeva nell'antichità come era successo alla mamma di alessandro magno parea alla gentil donna nel suo sogno esser sotto un altissimo alloro sopra un verde prato vicino a una chiarissima fonte e qui si sentia partorir un figliuolo il quale crebbe nutrendosi solo delle bacche le quali dall'alloro cadevano e con le foglie dall'oro si sa si fanno le corone dei poeti quelle stesse che vediamo in tutti i ritratti di dante non è che boccaccio si sia sforzato tanto dunque dante non ha avuto un rapporto molto stretto con i suoi genitori diciamo che ha ereditato ha ereditato i poderi che hanno fatto di lui un cittadino agiato che gli hanno permesso di dedicare la vita alle cose che gli piacevano agli studi ha ereditato un cognome e una posizione sociale però qui sta il problema perché è vero che i soldi c'erano ma alighiero non li aveva fatti in modo troppo pulito qualcuno diceva che erano usurai ma io dico che gli usurai sono quegli immigrati che non si sa da dove vengono aprono la botteguccia e cominciano a strozzare i poveri ecco quelli si andrebbero cacciati tutti ma un cittadino rispettabile che fa girare i suoi soldi avrà ben diritto di guadagnarci qualcosa no perché se i soldi non girano si ferma tutto sì lo so loro prendevano interessi abbastanza alti anche molto alti diciamolo il 20 per cento all'anno anche il 25 per cento ma la gente ha bisogno di soldi senza soldi di questi tempi non si fa niente ma dunque il padre il nonno gli zii di dante erano usurai in termini tecnici sì senza il minimo dubbio ma dice l'usura non era proibita dalla chiesa e certo che era proibita ma se credete che tutte le cose vietate dalla chiesa solo per quello la gente non le facesse più vuol dire che non avete capito cos'era il medioevo far girare i soldi era importante lo ha detto anche il nostro ser notaio e quando a far girare i soldi erano cittadini rispettabili nessuno diceva niente e quindi alighiero e gli altri non erano usurai no erano uomini d'affari che avevano le mani in pasta in tutte le occasioni in cui c'era da guadagnare qualcosa i fui nato e cresciuto sovra il bel fiume d'arno alla gran villa firenze di cui sono nativo e cittadino sul luogo di nascita come abbiamo sentito e dante stesso a togliere ogni dubbio era nato a firenze il che significa in una delle più grandi e ricche metropoli del suo tempo perché i nostri discendenti possono comprendere che cos'era firenze nostri tempi bisogna ricordare che le gabelle rendevano 300.000 fiorini d'oro all'anno che sarebbe una gran cosa per un regno e il re roberto di napoli non ne ha di più e re di sicilia e re d'aragona molto meno i cittadini adulti maschi in grado di prendere armi erano 25 mila ai miei tempi erano la metà dopo la peste ma non ne parliamo sono discorsi che allo zio non piacciono tanto sapete lui c'è morto durante la grande peste con più di mille letti che ospitavano poveri malati firenze alla fine del 200 era come oggi londra o new york pulsava di vita e di denaro e cambiava faccia senza rimpianti nei riguardi per il passato era una città piena di cantieri che davano lavoro a una folla di immigrati al tempo di dante stavano costruendo santa maria novella santa croce la badia il duomo palazzo vecchio e dante abitava proprio vicino alla badia più o meno dove oggi c'è il museo chiamato casa di dante anche se a forza di restauri rifacimenti e demolizioni il luogo è molto diverso da come probabilmente si presentava ai suoi tempi però com'era la casa di dante possiamo provare a immaginarcelo anche grazie a qualche preziosa testimonianza al tempo in cui dante venne al mondo firenze era divisa in quartieri ma siccome erano 6 e non 4 allora venivano chiamati sestieri o sesti il sesto di porta san piero san piero maggiore era quello dove si trovavano le case degli aldighieri che abitavano all'angolo di porta san piero all'ingresso del mercato vecchio proprio sulla piazza dietro al popolo di san martino del vescovo che voi oggi chiamereste la parrocchia di san martino nel sesto di porta san piero si è sempre reclutata la migliore cavalleria e gente d'arme della città ma tu zio hai anche scritto che la gente lo chiamava il sesto dello scandalo certo lo scandalo cioè i litigi le sommosse le guerre civili sono sempre i cavalieri che le provocano in questa città straricca c'era gente che i soldi li aveva fatti da tanto tempo e che si era abituata a vivere come i nobili della campagna sempre a cavallo in mezzo alle armi ai cani da caccia questi cavalieri guardavano dall'alto in basso la gente che i soldi aveva appena cominciato a farli perfino dante siccome era ricco di famiglia e non aveva bisogno di lavorare ostentava disprezzo verso gli immigrati dal contado che i soldi appunto avevano appena cominciato a farli e magari erano già diventati più ricchi di lui la gente nuova e i subiti guadagni orgoglio e dismisura generata fiorenza in te sì che tu già tempi anni e così firenze era spaccata e tutti quei soldi non portavano concordia ma guerra civile fra quelli che avevano già avuto il tempo di investire e avevano comprato terre e castelli e costruito torri e tenevano cavalli e armi e si facevano addobbare cavalieri e chi per queste cose non aveva tempo perché stava a bottega a lavorare fra i magnati e il popolo erano la disgrazia della nostra città i magnati i grandi come diceva la gente famiglie numerose prepotenti tutti con lo stesso cognome tutti i zii tutti i cugini tutti i ricchi e tutti armati le loro case erano così vicine le une alle altre che occupavano intere parrocchie e dominavano con le loro torri avete presente san giminiano e firenze era così solo che era dieci volte più grande e tutta irta di torri provate un po voi a far funzionare un governo pacifico a tenere i cittadini d'amore e d'accordo in una città piena di gente così tra i più cattivi di tutti c'erano i donati quelli erano sì antichi di sangue ma non così ricchi i cerchi invece erano uomini di basso stato venuti da chissà dove ma buoni mercanti gran ricchi la brava gente non faceva differenza tutti grandi tutti magnati dei cerchi e dei donati sentiremo ancora parlare perché sono loro i capi delle fazioni che si affrontano al tempo di dante e abitavano nel suo stesso sesto porta san piero per il momento limitiamoci a dire che sono famiglie come queste a impedire il funzionamento pacifico del comune perché quando le cose non vanno come vogliono loro sono pronti a occupare la piazza armati e poi c'era il popolo noi cioè tutti gli altri tutti quelli che non avevano tempo per i cavalli per i tornei perché dovevamo andare a bottega a lavorare a fare i soldi certo in pace in armonia e in buona concordia non chiedevamo altro i grandi invece sempre a pensare alla guerra a fare la guerra le altre città e quando non si poteva farsela tra di loro ma la guerra per gli affari è un disastro ma torniamo al piccolo dante che sta crescendo nel sesto di porta san piero e proviamo a immaginare com'era l'infanzia di un ragazzino nella firenze dell'epoca c'era la scuola innanzitutto perché i bambini della classe sociale di dante ovviamente andavano a scuola e a dire il vero non soltanto loro ma è chiaro che a firenze i fanciulli andavano a scuola quasi tutta la mia età 8 10 mila fanciulli maschi e femmine che imparavano a leggere poi c'erano 1200 si 1200 più grandi celli i garzoni che imparavano a far di conto e infine 550 600 sì quelli che imparavano il latino e la logica che cosa ha imparato dante a scuola a leggere ea scrivere che erano due cose separate e poi subito un po di latino perché in realtà si imparava a leggere direttamente su testi latini sul salterio che era un libro di preghiere e sulla grammatica del donato tutti i bambini ci passavano poi però la grande maggioranza con latino smettevano lì perché a loro saper leggere e scrivere serviva solo da grandi per tenere i libri di bottega dante invece ha continuato anche se poi da adulto si accorgerà che il latino imparato a scuola non gli bastava mica per leggere davvero cicerone chi fosse il suo maestro non lo sappiamo dante non ne parla mai non abbiamo idea dei ricordi che può aver conservato dei tempi della scuola probabilmente cattivi ricordi perché all'epoca bisogna dirlo i ricordi di scuola erano soprattutto ricordi di frustate erano più felici i momenti liberi al di fuori della scuola quando poteva anche capitare che i bambini accompagnassero i genitori alle feste dei grandi il primo maggio era usanza nella nostra città a festeggiare la primavera in compagnie separate si capisce gli uomini con gli uomini e le donne con le donne e un cittadino molto ricco folco portinari aveva invitato i vicini nella propria casa a festeggiare e fra gli altri anche a lighiero e con lui era andato anche suo figlio dante che non aveva ancora compiuto nove anni perché i fanciulli piccoli vanno coi padri specialmente ai luoghi festevoli la forte separazione fra i sessi che usava firenze non valeva nell'infanzia e infatti a quella festa di uomini di padri era pieno di maschietti e femminucce che li avevano accompagnati e che un certo punto si sono alzati da tavola e si sono messi a giocare e lì che dante ha incontrato beatrice per la prima volta dante dice stava per compiere i nove anni beatrice aveva appena compiuto gli otto siamo quindi nella primavera 1274 apparve vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima età si convenia l'unico particolare che dante ci racconta di quella scena e che beatrice aveva un abitino rosso rosso sangue e lui si è innamorato pazzamente da allora innanzi dico che amore signoreggiò la mia anima dopo quel primo incontro infantile dante ha cercato tutte le occasioni di rivedere beatrice non è mai riuscito neanche a salutarla può darsi che per anni non l'abbia proprio più rivista anche perché a firenze all'epoca appena una ragazzina si avvicinava alla pubertà i genitori non la lasciavano più uscire di casa ellie l'amore mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angela giovanissima onde io nella mia puerizia molte volte l'andai cercando passano nove anni dopo quel primo incontro infantile prima che a dante capiti di nuovo di incontrare beatrice per la strada e il 1283 hanno 18 anni tutte e due e dante in giro da solo per le strade di firenze quando all'improvviso si accorge che c'è lei che gli sta venendo incontro anche se erano quasi coetanei la loro posizione nella società era diventata molto diversa dante a 18 anni era ancora un adolescente pieno di desideri repressi beatrice che era più piccola di lui era già una signora sposata e quindi usciva di casa quando voleva anche se raramente da sola dato il rango di suo marito il cavaliere simone de bardi grande azionista bancario questa mirabile donna parvi a me vestita di colore bianchissimo in mezzo a due gentili donne le quali erano di più lunga età e quindi anche quel giorno quando dante se la vede venire incontro beatrice non è da sola ci sono due signore più anziane insieme a lei e lui va nel panico come qualunque adolescente imbranato e cerca di non farsi vedere e invece beatrice lo riconosce e lo saluta e a lui sembra di toccare il cielo con un dito era la prima volta che sentiva la sua voce quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire a linee e orecchi presi tanta dolcezza che come inebriato mi partio dalle genti e ricorsi allo solingo luogo d'una mia camera e puosimi a pensare di questa cortesissima a questo punto il diciottenne corre a casa si chiude in camera e comincia a ripensare intensamente a questa cosa fantastica che gli è capitata poi alla fine si addormenta e mentre dorme la sogna beatrice nuda ci tengo a sottolinearlo perché è dante che ha voluto scriverlo anche se lo dice con un tocco così leggero che di solito i commentatori non ci si fermano troppo e poi si sveglia in preda a una violentissima emozione e qua mi verrebbe da dire niente che non sia capitato anche a noi a 18 anni o comunque che non avrebbe potuto capitarci ma quel diciottenne era dante e viveva in un mondo diverso dal nostro in quel mondo era comparsa da poco fra i giovani come lui una novità che faceva furore e consisteva nel fatto di discutere fra loro sull'amore su questa forza straordinaria che li dominava a tutti discuterne però in versi scrivendo poesie poesie nella lingua di tutti i giorni noi in latino anticamente non c'erano dicitori d'amore in lingua volgare anzi erano dicitori d'amore certi poeti in lingua latina lo ricorda bene dante e ricorda bene perché certi poeti volgari a quei tempi fecero la loro comparsa e lo primo che fu poeta in lingua volgare lo fece perché voleva far intenderle sue parole a una donna alla quale era mal agevole di intendere diversi latini scrivere sonetti in volgare in lingua di sì come dice dante lui non lo chiama mai l'italiano al suo tempo non si usava ancora scrivere sonetti in volgare e mandarli ad altri poeti e aspettare le loro risposte e discuterne davanti al pubblico in fondo è la stessa cosa che succede oggi nei poetry slam o nei freestyle di rap e del resto quelli erano versi fatti per essere messi in musica e dante aveva molti amici musicisti ciascuno mi ha presi gentil core nel cui cospetto ve lo dir presente ciò che mi riscriva in suo parvente saluto il loro signor cioè amore c'erano quasi catterzate l'ore del tempo conne stella mia lucente quando mi apparve amore subito al mente guia e senza membrarmi da orrore allegro mi sembrava amore tenendo il mio cuore in mano e ne le braccia via la donna involta in un drappo dormendo poi la sveglia vede il suo cuore ardendo le pavientose mi mente pascea e i poeti che ricevettero il sonetto risposero qualcuno nello stesso tono elevato qualcun altro invece con un brusco abbassamento stilistico come dante da maiano che consigliò al ragazzino di sciacquarsi i testicoli in acqua fredda per farsi passare i bollori che lavi la tua coglia largamente a ciò che stinga e passi lo vapore fra quelli che risposero in tono serio c'era anche guido cavalcanti che diventerà poi il più grande amico di dante un magnate anzi uno dei più arroganti e violenti ma anche un grande poeta e un gran signore uno studioso di filosofia e una testa matta io cavalcanti l'ho anche messo nel mio decameron che forse avrete letto bel personaggio tutte le migliori compagnie di giovani ricchi lo volevano era un ottimo filosofo anche se questo ai giovani ricchi importava poco ma era il più elegante di tutti il più raffinato e ricchissimo lo invitavano dappertutto e lui non ci andava mai ma con dante invece era amico vero anche se litigavano sempre gli amici erano importanti per dante in gioventù si è fatto degli amici a cui ha continuato a voler bene per tutta la vita anche se parecchi sono morti molto prima di lui all'epoca era facile morire giovani e lui ha cercato di consolarsi della perdita immaginando di ritrovarli in purgatorio alcuni di loro erano di condizione sociale superiore alla sua membri di grandi famiglie gente che suo padre o i suoi zii non frequentavano ma lui dava del tuo ai figli dei cavalieri perché scriveva poesie insieme a loro i giovani a quei tempi uscivano molto insieme c'erano tante feste e cene ma le compagnie erano divise i maschi coi maschi e le femmine con le femmine ora le cose sono cambiate c'è più libertà i giovani d'oggi non hanno più idea di come vivevano i loro nonni colpa della peste dopo l'epidemia è cambiato tutto anch'io nel mio decameron ho inventato che sette ragazze durante l'epidemia decidono di andare via da firenze in una casa di campagna poi ci sono tre giovanotti che propongono di aggregarsi anche loro all'inizio le ragazze non vogliono sono cose che non si fanno cosa dirà la gente poi però una di loro fiammetta dice che a lei di quel che dice la gente non importa niente i giovani d'oggi a metà del 300 sono così ma ai tempi di dante l'idea di uscire in compagnia tutti insieme ragazzi e ragazze era una cosa impensabile dante cercava tutte le occasioni per vedere beatrice quando è morto il padre di beatrice folco portinari dante è andato a casa sua ma non ha potuto entrare perché l'usanza era che quando c'era un morto in casa solo le donne entravano per il pianto funebre gli uomini dovevano restare fuori e intanto studiava studiava teologia filosofia aritmetica geometria leggeva di storia ha letto così tanti libri che a un certo punto iniziò a ballarli la vista e allora dovete curarsi per molto tempo in luoghi bui e freddi e poi ha ricominciato stava sveglio la notte faticava sui libri si vede da tutto quello che ha scritto che era un vero pozzo di scienza ma non era più la scuola del maestro col frustino dante era maggiorenne orfano di padre e quindi capo famiglia era ricco e padrone di fare quello che voleva e quello che voleva fare era studiare e ha studiato col maestro più prestigioso di firenze brunetto latini che gli ha insegnato un'arte nuova si chiamava lars dictaminis a dire cos'era sembra una cosa comica era l'arte di scrivere lettere ma non le lettere private le lettere politiche le lettere che si scrivono i governi in cui discutono di grandi questioni ed era l'arte di fare discorsi in pubblico e quindi di nuovo qualcosa che era il centro della vita politica di firenze dove per fare carriera bisognava essere capaci di alzarsi in pieno consiglio e prendere la parola di stare al balcone alla ringhiera e a ringare appunto il popolo e convincere insomma brunetto latini a dante ha insegnato l'arte di fare politica e intanto leggeva grandi poeti quelli che tutti amiriamo anche se poi non sono tanti quelli che li hanno letti veramente sia ovidio stazio lucano e virgilio naturalmente che poi lo accompagnerà all'inferno lui dico dante sapeva tutta l'eneide a memoria e se ne vantava a un certo punto si fa fare complimenti anche da virgilio bello sai tu che la sei tutta quanta però a un certo punto ha dovuto distogliersi dallo studio per occuparsi di una sfida di ben altro ordine è già campaldino l'acquilibri si facevi poco l'11 giugno 1289 dante non è nel suo studio a leggere i poeti classici e a cavallo in mezzo alla campagna con addosso la cotta di maglia di ferro che pesa almeno 20 chili con lo scudo al braccio la lancia in pugno la spada cinta al fianco e in testa l'elmo d'acciaio chiuso e soffocante in quella battaglia memorabile grandissima che fu a campaldino lui giovane benestimato si trovò nell'armi combattendo vigorosamente a cavallo nella prima schiera tante è la sotto nella piana di campaldino e uno dei 150 feditori che i fiorentini hanno schierato in prima linea a attendere l'urto del nemico non sanno ancora che la battaglia di campaldino sarà una grande vittoria e che segnerà la disfatta definitiva dei ghibellini e l'egemonia di firenze in toscana io ho potuto leggere una lettera in cui dante descrive tutta la battaglia e dice che all'inizio ha avuto una gran paura e solo alla fine ha capito che era andata bene dante ha avuto paura dice non c'è niente di strano e niente di vergognoso i cavalieri senza macchia e senza paura esistono solo nel nostro immaginario loro sapevano cos'è la guerra e cos'è una battaglia sapevano che solo i ragazzini non hanno paura la prima volta quando non sanno ancora cosa li aspetta e quindi dante quando ci dice che a campaldino ha avuto paura sta dicendo una cosa molto precisa che lui ormai era un uomo e del resto la battaglia è stata davvero terribile l'aria era coperta di nuvoli la polvere era grandissima i pedoni degli aretini si mettevano carponi sotto i ventri dei cavalli e coi coltelli in mano li sbudellavano i primi si fecero così avanti che molti da tutte e due le parti furono uccisi nel bel mezzo dello schieramento in molti che si credevano coraggiosi quel giorno furono vili e tanti di cui non si parlava da quel momento furono stimati dante nella commedia ricorda di quando dopo la vittoria loro sono andati a devastare il territorio di arezzo e a correre giostre e tornei sotto le mura di arezzo per farsi beffe dei nemici sconfitti corridor vidi per la terra vostra o aretini e vidi gir gualdane ferir torneamenti e correr giostra dopo la battaglia dante tornò a casa e ricominciò a studiare agli studi più ferventemente che prima si diede all'inizio degli anni 90 dante ha 25 anni e un uomo adulto ricco padrone della propria vita che ha già fatto anche molta esperienza partecipato a una guerra una grande battaglia ma il nuovo decennio si apre con un avvenimento traumatico il 19 giugno 1290 muore beatrice e per dante è uno shock da cui non si riprenderà mai del tutto per elaborare il lutto come diciamo noi dovrà scrivere la divina commedia tenendo fede a una promessa che ha fatto già nelle ultime righe della vita nuova sicché se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono che la mia vita duri per alquanti anni io spero di dicere di lei quello che mai non fu detto da alcuna per provare a reagire allo shock della morte di beatrice dante provò a rifare l'unica cosa che era in grado di distrarlo studiare brunetto latini gli aveva parlato di certi autori antichi che raccontavano di una cosa misteriosa la filosofia e garantivano che la filosofia può consolare da tutti i mali si chiamavano boezio cicerone dante decise di leggerli si procurò i loro libri cosa che non era così facile e ci si mise seriamente si accorse subito che col suo latino imparato a scuola faceva fatica ma lui era uno che davanti alle difficoltà si intestardiva si innamorò della filosofia e cominciò a immaginarsela ed immaginava la filosofia come una donna gentile e non la poteva immaginare in atto alcuno se non misericordioso e così dante cominciò a immaginarsi la filosofia come una gran signora che lo aiutava a consolarsi della perdita di beatrice e da questo immaginare cominciai ad andare là dove ella si dimostrava veracemente cioè nelle scuole degli religiosi e alle disputazioni degli filosofanti le scuole degli religiosi e le disputazioni degli filosofanti ci portano nei grandi conventi fiorentini di santa croce e di santa maria novella che non erano esattamente luoghi di agio e di tranquillità in quegli anni perché entrambe le chiese erano in costruzione e quindi erano due cantieri formicolanti di gente pieni di rumore lì dante approfondisce lo studio della filosofia che per lui come per gli intellettuali del suo tempo era qualcosa di ancora più ampio di quello che potremmo pensare noi era una riflessione su come fatto l'universo e su che mezzi abbiamo noi per conoscerlo e su quale il nostro libero arbitrio era la filosofia naturale che studia appunto come è fatta la natura ma poi da questo loro ricavavano anche delle conseguenze etiche la filosofia morale in altre parole erano convinti che sapendo come fatto il mondo noi possiamo anche imparare come starci al mondo era preso dalla dolcezza del conoscere il vero delle cose racchiuse dal cielo ma torniamo alla carta d'identità che stiamo compilando per il nostro durante alighieri abbiamo stabilito nome e cognome data e luogo di nascita abbiamo visitato la casa natale il quartiere abbiamo conosciuto i genitori gli amici lo abbiamo accompagnato nei suoi studi e nei suoi amori non abbiamo ancora dato i connotati e i segni particolari forse è arrivato il momento di dare un volto e un po di fisicità al nostro protagonista il nostro poeta era di mediocre statura aveva il volto lungo il naso aquilino le mascelle grandi e il labbro inferiore così proteso che alquanto quel di sopra avanzava le spalle era parecchio curvo e gli occhi non erano piccoli ma grossi la carnagione bruna i capelli crespi e neri e appariva sempre malinconico e pensoso però però ricordiamoci sempre che boccaccio dante non lo ha mica conosciuto parlava per sentito dire la cosa più sicura è quando racconta di un nipote di dante figlio di una sua sorella che si chiamava andrea poggi perché questo nipote invece boccaccio lo ha conosciuto nei lineamenti del viso andrea assomigliava meravigliosamente a dante e anche di statura erano simili e così nell'andamento che appariva un poco gobbo come dante si diceva andasse ecco qui si sente una nota autentica andrea andava un po gobbo e a boccaccio qualcuno ha detto tutto suo zio a questo punto ci rimangono da completare due voci della scheda anagrafica di dante lo stato civile e la professione e cominciamo dallo stato civile che almeno in apparenza è la cosa più semplice coniugato anche se in realtà anche qui non mancano i misteri dante era sposato con gemma di messer manetto donati ma il mistero è quando si sono sposati noi l'atto di matrimonio non ce l'abbiamo ma in un documento molto più tardo di quando gemma era già vedova lei menziona l'atto del suo matrimonio e dice che è datato al 1277 attenzione quando dante aveva 12 anni di questa cosa in genere non ci si preoccupa molto perché c'è l'idea che a quell'epoca facevano sposare anche i bambini ed è vero che si facevano promesse di matrimonio fra bambini ma l'atto di cui stiamo parlando è un'altra cosa io lo ricordo un caso di bambini che si sono proprio sposati avvenne l'anno in cui sono nato io nel 1280 era nella famiglia dei conti guidi e c'era da mettere in salvo un enorme eredità e così fu celebrato questo matrimonio anche se loro sapevano benissimo che era illegale e santa madre chiesa non approvava ma c'era un ballo troppo insolti e l'hanno fatto lo stesso sì sì ma quelli erano i conti guidi figuriamoci se una cosa così potevano farla gli alighieri tra l'altro i conti guidi erano i padroni di questo castello di poppi in cui noi ci troviamo adesso ed erano una famiglia principesca a loro certe trasgressioni erano consentite alla gente qualunque come gli alighieri secondo me no quindi io sono abbastanza convinto che in realtà sono i notai che si sono sbagliati a trascrivere l'anno e che dante si è sposato verso i 25 30 anni come tutti come tutti i giovani uomini della sua classe sociale che si sposavano tardi le donne no la moglie era sempre molto più giovane del marito le ragazze si sposavano appena possibile a 14 a 15 anni e del resto boccaccio lo dice benché partita dal mondo beatrice gli avea nel petto la sua immagine lasciata per perpetua donna e allora i parenti ragionarono insieme che se dante avesse preso per moglie una giovane questa avrebbe potuto scacciare il pensiero della prima e senza alcun indugio misero in pratica quel che avevano pensato allora lo stato civile lo abbiamo definito l'altra voce che riguarda la professione la lasciamo in bianco dante non lavorava viveva di rendita il padre il nonno gli zii erano gente d'affari e avevano fatto i soldi lui i soldi le aveva ereditati non che fossero tantissimi ma abbastanza per vivere tranquillamente da cittadino come si diceva allora un paio di bei poderi in campagna con i loro mezzadri che ogni anno venivano in città a pagare l'affitto al padrone dante se avesse voluto avrebbe potuto anche lui impegnarsi un po' negli affari ma non aveva la vocazione diversamente dal suo fratello francesco fratellastro francesco per tutta la vita ha continuato a fare affari comprare terra rivenderla prestare soldi per arrotondare nei protocolli dei miei colleghi notai di quell'epoca sono saltati fuori parecchi documenti in cui dante francesco prendono soldi in prestito ed è nata la leggenda che fossero in difficoltà economiche addirittura che si fossero impoveriti ma non è così che andavano le cose ai miei tempi non so per voi se è diverso ma da noi la regola è che i ricchi fanno grossi debiti ed i poveri fanno debiti piccoli e dante francesco prendevano in prestito grossissime somme in un'occasione 480 fiorini d'oro vogliamo dire mezzo milione dei vostri euro con 480 fiorini una famiglia come la loro avrebbe potuto vivere dieci anni e dunque la verità è un'altra e che quei soldi servivano a francesco per i suoi investimenti oppure a dante per un'altra cosa di cui finora non abbiamo ancora parlato ma di cui è proprio arrivato il momento di parlare perché l'unica cosa che per qualche anno lo ha occupato quasi quanto lo studio e la poesia la politica il nostro era un governo largo come si diceva ai miei tempi si partecipava in tanti a turno i consigli che prendevano le decisioni venivano rinnovati ogni sei mesi e dentro c'era un bel po di gente io non ho mai fatto il conto ma ma credo che se non erano mille poco ci mancava ed era un governo di popolo della gente che lavora o non dico mica degli operai o di simile gentaglia non lo dico di cici ha una bottega e paga le tasse di che è scritto a una corporazione di mestiere a un'arte i mercanti i medici i notai gli speciali lanaioli o i più piccoli i calzolai i fabbri i macellai i sei magistrati supremi i priori li eleggevano direttamente le corporazioni come se nel vostro mondo il governo fosse eletto da confindustria o confessercenti o copartisanato si 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 insomma abbiamo capito si i sei priori stavano in carica due mesi mi dicono che nel vostro mondo non vi preoccupate di una cosa che si chiama stabilità di governo a voi non piacciono i governi che durano poco per noi era esattamente il contrario guai a uno che resta troppo al potere due mesi due mesi e la durata giusta e dunque la politica era fatta di riunioni commissioni giunte consigli e di votazioni continue a voto palese a voto segreto e di discorsi come quelli che dante aveva imparato a fare studiando con brunetto latini però attenzione perché questa dimensione diciamo così democratica della vita politica doveva poi sempre fare i conti con l'altra dimensione sempre presente quella della violenza perché quelli che non erano contenti di come andavano le cose avevano sempre la tentazione di scendere in piazza armati e rovesciare il governo con la forza non per niente i sei priori dovevano stare per due mesi chiusi dentro una torre la torre della castagna che poi era proprio davanti alla casa di dante e per loro stavano costruendo un palazzo che poi sarà palazzo vecchio perché stessero ancora più sicuri dovevano stare chiusi dentro una fortezza per evitare che i nemici del popolo gli facessero la pelle i nemici erano i cattivi i cittadini dico io quelli che pensavano solo ai loro interessi invece che alla concordia il bene comune e poi se devo dire di più erano i grandi i magnati quelli che non avevano niente a che spartire con il popolo perché non lavoravano loro andavano in giro a cavallo addobbamenti feste tornei avevano tempo da perdere loro e noi il popolo quella gente lì non la volevamo nel nostro governo si erano fatte le leggi i cavalieri non potevano diventare priori e non potevano entrare nei consigli non solo non solo loro ma anche tutti quelli che avevano i cavalieri in famiglia e che non erano iscritti alle arti perché non lavoravano appunto gli scioperati li chiamavamo così i magnati facevano paura erano tanti e bene armati e in caso di bisogno facevano venire in città dalla campagna i loro contadini armati anche loro per intimidire il governo di popolo e proprio in un'occasione del genere che dante per la prima volta si è alzato e ha fatto un intervento in un consiglio o almeno così parrebbe di capire da un verbale che è arrivato fino a noi il documento è sbiadito ammuffito si fa una gran fatica a leggerlo però si individuano alcune lettere del cognome alighieri era proprio dante pare che non ci fosse nessun altro il cui cognome potrebbe corrispondere a quelle lettere quindi sì diciamo che era lui certo che come col famoso contratto di matrimonio non siamo tanto fortunati quando si tratta dei documenti che dovrebbero illustrare i momenti cruciali della vita di dante e poi non crediate che lì ci sia registrato il testo del suo intervento no c'è solo scritto che quel giorno dante è intervenuto a favore della proposta del governo che poi è stata approvata ma qual era questa proposta che giorni quelli si temeva la guerra civile i magnati si erano messi in capo di pretendere la modifica alle leggi che gli escludevano dal nostro governo e la pretendevano a modo loro e scesero in piazza armati e noi il popolo si è scese anche noi tutti armati ciascuno sotto il gonfalone del proprio rione a difendere la torre dei priori a tirare su le barricate nelle strade si sono guardati in faccia tutto il giorno sotto il sole di luglio cittadini autorevoli frati faceva la spola cercando di mettere pace i magnati in fondo non avevano tutti i sorti le leggi colpivano troppe famiglie bastava avere avuto un cavaliere chissà quanto tempo prima ta e finivi nelle liste non potevi fare più politica e ti teneva d'occhio per fortuna al governo c'era gente ragionevole hanno promesso le modifiche e magnati hanno accettato sgombrando le piazze questa è la proposta che dante ha appoggiato il giorno dopo allentare le misure di sicurezza contro i grandi permettere anche a gente ricca che non lavora di accedere ai posti di governo purché accettino la formalità di iscriversi alla confindustria voglio dire alle corporazioni alle arti e questo ci fa anche capire qual era la posizione politica di dante serviva un governo di popolo certo anche perché quello era il governo del momento e se uno voleva fare politica doveva adattarsi e del resto dante era un plebeo anche se viveva di rendita però le rivendicazioni dei nobili cavalieri le capiva tra loro c'erano i suoi amici e c'erano i parenti di sua moglie gemma le capiva e quando il governo ha deciso di accettarle lui è stato d'accordo non solo hanno scelto lui per parlare a favore della proposta e questo vuol dire una cosa sola che il partito si fidava di lui l'avevano identificato questo è uno dei nostri di noi che vogliamo sì il governo di popolo certo ma senza inutili intransigenze nei confronti delle grandi famiglie e anzi con tanta diffidenza nei confronti dell'estremismo dei poveri dante si era messo in politica e ne fu inviluppato tremendamente abbandonando gli studi le considerazioni filosofiche che richiedevano quiete concentrazione somma pace d'animo impossibile in quel tumulto che è la politica e la politica fiorentina era davvero un vespaio pieno di trappole perché non c'era soltanto la spaccatura sociale fra i magnati e i popolani c'era anche la vecchia spaccatura ideologica incancrenita fra guelfi e ghibellini che ormai era tenuta viva solo dalla propaganda perché i guelfi avevano vinto stravinto e dire ghibellini a firenze era come dire comunisti negli stati uniti una volta c'erano adesso non ci sono più però c'era il partito guelfo parte guelfa con suo palazzo che esiste ancora oggi nel centro di firenze c'era parte guelfa che badava a garantire l'ortodossia politica della città e a stilare le liste dei sospetti ghibellini da tenere sotto sorveglianza questa storia del partito guelfo che faceva le liste di sospetti ghibellini e gli rovinava la vita è continuata anche dopo fino ai miei tempi se qualcuno voleva fare carriera politica si vantava di essere più guelfo degli altri e se voleva tagliare le gambe a un loro concorrente accusava di essere ghibellino e lo faceva cacciare da tutti i consigli e magari quello lì era più guelfo di loro ma al tempo di dante il problema peggiore era un altro era che nel partito guelfo erano in troppi a voler comandare e così si erano formate due correnti come diremmo noi oggi due fazioni che prendevano il nome delle due famiglie principali gli amici dei cerchi che poi si chiamarono i bianchi e gli amici dei donati i neri erano due famiglie molto diverse una aveva più orgoglio che soldi e l'altra tutto il contrario della casa dei donati il capo era messer corso donati egli e quelli della sua casa erano guerrieri non di so perché ricchezza e per motto venivano chiamati malefami noi non sappiamo se malefami volesse dire di mala fama o addirittura fammi male certo non era un soprannome rassicurante con questi donati dante lo sappiamo rimaneva parente suo suocero manetto donati era un lontano cugino di corso ed era fratello di corso donati l'amico di gioventù di dante forese ma dante sappiamo anche questo era uno che faceva di testa sua e infatti stava coi cerchi della casa dei cerchi il capo era messer vieri dei cerchi la famiglia di cerchi era gente di grande affare possenti di grandi parentati mercatanti ricchissimi la loro compagnia era una delle maggiori del mondo come uomini erano morbidi innocenti salvatichi e ingrati i cerchi non erano nobili insomma non erano antichi e si vedeva perché non avevano ancora imparato a stare al mondo non avevano imparato a farsi degli amici come è necessario in politica però questo non gli impediva di essere anche loro dei magnati dei grandi perché la loro compagnia commerciale che poi era soprattutto una banca era una delle più importanti di firenze una delle più importanti del mondo dice il villani e ha ragione perché le banche a quell'epoca esistevano solo nelle città toscane nel resto del mondo non sapevano neanche cosa fossero senza i nostri banchieri fiorentini neanche il re d'inghilterra o il re di francia potevano fare la guerra i soldi li avevamo noi si finanziava anche il papa in fin dei conti firenze era guelfa da noi i ghibellini non hanno mai avuto speranza il papa faceva affari solo con i guelfi ai miei tempi sul finire del 300 nelle banche hanno incominciato a investire anche dei popolani venuti dal niente e si sono fatti ricchi i medici ad esempio mi dicono aver fatto una gran fortuna ma ai tempi di dante le quote maggiori nelle banche le avevano solo i grandi i magnati gli spini gli scali i bardi strano è in città non potevano essere letti a nessun incarico ma poi la finanza avevano in mano loro capite come faceva fatica a stare a galla il governo dei priori loro rappresentavano il popolo un governo del popolo in cui gente come i cerchi e i donati non aveva neanche diritto di cittadinanza perché loro erano grandi nemici del popolo però in città i cerchi e i donati avevano così tanti amici e facevano così tanta paura che il governo era costretto a stare chiuso in una torre per evitare guai e quel che è peggio la rivalità fra i cerchi e i donati non era neanche più una faccenda interna al mondo dei grandi perché anche molti popolani grassi si erano lasciati coinvolgere stava venendo fuori la magagna principale del governo di popolo e cioè il fatto che nel cosiddetto popolo c'erano ormai interessi troppo diversi i grassi i grandi mercanti gli industriali della lana i giudici non avevano più niente in comune con la massa degli artigiani dei piccoli commercianti stavano nello stesso partito il partito della gente che lavora ma non avevano più gli stessi interessi la città si è divisa un'altra volta tutta non solo i grandi ma anche i mezzani e anche i piccolini chi teneva per i cerchi e chi teneva per i donati persino i religiosi non riuscivano a resistere e parteggiavano chi per gli uni e chi per gli altri e in questo contesto avvelenato che dante ha voluto continuare a fare politica e noi sappiamo che l'ha fatta perché lo ritroviamo continuamente membro di un qualche consiglio sapete che ce n'erano tanti il consiglio dei cento il consiglio del podestà il consiglio del capitano del popolo e si rinnovavano continuamente e dante si alzava spesso a parlare ci metteva la faccia lui poi dirà che non parteggiava per nessuno che gli interessava soltanto il bene della città ma la gente lo vedeva che quando era nominato in un consiglio era sempre in quota i bianchi e quando si alzava a parlare era sempre per appoggiare le emozioni dei bianchi e del resto in quegli anni parlo del 1299 del 1300 sembrava proprio che i bianchi fossero i più forti ma avevano fatto i conti senza il giocatore più forte di tutti sedia in quel tempo nella sedia di san pietro papa bonifazio ottavo il quale fu di grande ardire e alto ingegno e guidava la chiesa a suo modo e abbassava chi non li consentia e dalla sua parte stavano gli spini famiglia di firenze ricca e potente ma gli spini i banchieri del papa erano neri stavano coi donati c'era qualche cardinale che avrebbe voluto cambiare banca che aveva interesse ad appoggiare la banca cerchi ma bonifazio ottavo voleva la banca spini e con lui c'era poco da discutere abbassava chi non gli consentiva il papa mandò a firenze mester frate matteo d'acqua sparta cardinale portuense per pacificare i fiorentini ma si vide subito che la pace che egli cercava era per abbassare i bianchi e per innalzare i donati poco dopo l'arrivo dell'inviato del papa sono entrati in carica i sei priori che dovevano governare dal 15 giugno al 14 agosto per essere stati nominati in un momento così delicato dovevano essere uomini di cui il regime popolare si fidava completamente alcuni erano bianchi e altri neri e fra quei sei in quota i bianchi c'era dante insomma dante è arrivato al vertice della sua carriera politica è arrivato al potere diciamolo pure anche se soltanto per due mesi in un momento difficilissimo perché i grandi avevano fatto capire chiaramente che loro alla pacificazione non ci credevano e che non avevano nessuna intenzione di smettere di combattersi i giovani dei scerti si scontrarono con i giovani dei donati che usarono i ferri e il sangue scorso e finché i magnati si ammazzavano fra di loro il governo avrebbe anche potuto dire poco male ma in realtà quelle violenze continue mettevano a rischio la sopravvivenza stessa del governo di popolo perché certi magnati speravano che la guerra civile spalancasse le porte al colpo di stato il 23 giugno vigilia di san giovanni festa del santo patrono di firenze mentre andavano in processione al battistero per offrire doni al santo i consoli delle arti vennero aggrediti e bastonati da certi grandi che gridavano noi siamo chi demmo la sconfitta a campaldino e voi ci avete rimossi degli uffici e degli onori della nostra città non era vero a campaldino c'erano tutti e dante lo sapeva meglio di tutti gli altri perché lui c'era ma la propaganda non ha bisogno di dire cose vere a questo punto i priori fra cui dante decisero che era troppo e condannarono all'esilio un certo numero di capi di tutte e due le fazioni per dante non deve essere stato facile perché uno dei condannati era il suo amico guido cavalcanti che era uno dei più scalmanati fra i bianchi bisognava far vedere al cardinale che il governo era imparziale ma a un certo punto non ce l'ha più fatta restare imparziali e così hanno dato ai bianchi il permesso di rientrare mentre i neri rimanevano in esilio ricordate quelle lettere di dante che io ho avuto tra le mani ebbene parla anche di questo dice che non è vero che furono i priori del bimestre successivo a permettere agli esiliati di rientrare ma a me non risulta che sia così lui si scusa dice di non essere un uomo di parte ma tutti sapevano che pendeva per la parte bianca anche guido cavalcanti è tornato ma in esilio si era ammalato ed è morto quasi subito noi non sappiamo cosa abbia provato dante sapendo in cuor suo che aveva causato la morte del suo migliore amico non ce ne ha mai parlato e intanto il cardinale d'acqua sparta continuava a negoziare ma i fiorentini si erano già accorti che non era imparziale nemmeno lui favoriva i neri come voleva il suo capo bonifacio ottavo e anche il cardinale ha rischiato di finire male ci fu uno di non molto senno il quale con una malestra tirò una freccia alla finestra del vescovado dove era il cardinale la freccia si ficò nell'asse per paura il cardinale cambiò casa e andò a stare oltrarno i priori per rimediare all'offesa gli presentarono 2000 fiorini appena cognati glieli portai io in una coppa d'argento e dissi messere non li disdegnate perché siano pochi senza un voto dei consigli non si può dare di più rispose che gli erano cari li guardò a lungo e non li voglia 2000 fiorini per capirci vuol dire qualcosa come un milione di euro forse anche due deve essere stato un bello sforzo per il cardinale rifiutarli ma capite in che razza di periodo si è trovato al governo dante due mesi possono sembrare pochi ma quante decisioni difficilissime da prendere e lui poi ripensandoci ricondurrà a quei due mesi maledetti tutte le sue disgrazie tutti li mali e gli inconvenienti miei dagli infausti comizi del mio priorato ebbero cagione principio dopo essere stato priore dante ebbe un altro incarico altrettanto delicato far parte di un ambasciata mandata a roma da papa bonifacio ottavo nella tana del lupo è probabile che a roma dante ci fosse stato già l'anno prima il 1300 perché in quell'anno bonifacio ottavo si era inventato il primo giubileo della storia e a roma c'era andato mezzo mondo c'erano 200 mila pellegrini senza contare quelli in cammino andando e tornando e c'erano vettovalli per tutti i romani si sono adecchiti tutti a cominciare dal papa non sei tu che raccontavi che nella basilica di san paolo c'erano due chierici accanto all'altare con dei rastrelli giorno e notte ad ammassare le offerte che i pellegrini lasciavano ininterrottamente io io mi ricordo un'altra cosa sai che sul ponte di castel sant'angelo avevano istituito un doppio senso di circolazione per i pedoni vista la grande massa di pellegrini quello l'ha detto dante zio sì nel diciottesimo dell'inferno l'hai letto lì no 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 l'ho detto io perché io c'ero e vidi perché certo è che mentre dante era a roma a firenze la situazione è precipitata i neri intrigavano alla corte di roma spendevano molto denaro mettevano in giro false informazioni dicevano che firenze stava per tornare in mano ai ghibellini il papa allora si convinse a prestare ai guelfi neri la grande potenza di carlo de valois fratello del re di francia partito dalla francia per arrivare in sicilia a combattere contro federico d'arragona gli scrisse che lo voleva fare paciaro in toscana contro i nemici della chiesa passaro la parola sembrava buona rassicurante in realtà voleva abbattere i bianchi ed innalzare i neri e fare i bianchi nemici della casa di francia e della chiesa il papa era il capo del partito guelfo che era uno schieramento internazionale e il regno di francia era il suo braccio armato a quei tempi in fausti io dino compagni fui eletto priore il 15 d'ottobre 1301 credevamo ancora di poter mettere tutti d'accordo parlavamo ai guelfi neri cercando di convincerli a fare la pace a dividere il potere con i bianchi insistevamo a trattare per la pace quando invece conveniva a ruotare i ferri arrivato in città con i suoi cavalieri carlo di valois getta la maschera i capi dei neri che erano ancora in esilio rientrano senza chiedere il permesso e quasi subito cominciano le aggressioni le bastonature gli omicidi cominciarono a rubare fonda bottega e nelle case di parte bianca cominciarono gli omicidi questa pestilenza durò cinque giorni in città con grande rovina di firenze e poi la devastazione continua in campagna rubando e bruciando case per giorni e giorni un gran numero di proprietà belle ricche vennero guaste e arsi anche le proprietà di dante vennero devastate gli entrarono in casa li rubarono ogni cosa e quel che non riuscirono a portar via lo distrussero ma dopo le prime settimane la violenza dei vincitori assume una nuova veste legalitaria si comincia a montare false accuse e a istruire processi politici contro gli avversari sconfitti molti furono accusati e convenia loro confessare aveano fatta congiura che non l'aveano fatta ed erano condannati in fiorini mille per uno e chi non si difendea era accusato e per contumace era condannato nell'avere nella persona e chi ubbidia pagava e li poi accusati di nuove colpe erano cacciati di firenze senza nessuna pietà fra di loro mi fu anche dante alighieri che era ambasciatore a roma i processi del 1302 si conclusero con la condanna all'esilio di più di 600 persone non c'è nessun dubbio che erano processi politici che l'esito era già deciso fin dall'inizio però però sul processo contro dante vale la pena di fermarci un po di più perché non tutti i bianchi che avevano avuto posizioni importanti in quegli anni non tutti i suoi colleghi nel priorato per esempio sono stati mandati sotto processo dante sì e questo vuol dire che era uno di quelli contro i quali si potevano montare delle accuse un po più plausibili che accuse il processo contro dante e altri tre coimputati in contumacia ovviamente era un processo per baratteria già la baratteria che voi direste concussione corruzione peculato ai miei tempi era la grande malattia che affliggeva la vita politica italiana mentre ai vostri tempi dante l'attacca rabbiosamente nell'inferno dove riserva una bolgia ai barattieri costringendoli a nuotare nella pece bollente nel gennaio 1302 però fu lui ad essere accusato di baratteria il giudice che istruì il processo accusò dante e gli altri di aver accettato bustarelle per le lezioni dei priori dopo di loro e di altri ufficiali del comune o per fare approvare provvedimenti e stanziamenti che facevano comodo agli amici li accusò inoltre di aver speso fondi pubblici in misura maggiore del consentito a vantaggio del loro partito dante barattiere per lucro privato no certo però un dante che trovandosi al governo accetta magari di fare qualche pressione nell'interesse del partito per evitare che un certo incarico vada magari alla persona sbagliata o per garantire un finanziamento agli amici e beh questo francamente non appare proprio impossibile sentito dante la ruina sua subito parti da roma e camminando con gran celerità ne venne a siena e qui si rese subito conto in modo chiaro della catastrofe e non vedendo possibilità diverse si aggregò agli altri esuli mancava ancora una voce per completare la carta d'identità del nostro protagonista la cittadinanza tante era nato e cresciuto a firenze ma quella cittadinanza ha finito per perderla quando è stato condannato all'esilio è diventato un cittadino del mondo come dice lui stesso con un po di tristezza e con molto orgoglio nel divulgare eloquenzia o per patria il mondo come i pesci hanno il mare dante pensava di essere nel mezzo del cammin di nostra vita quando ha dovuto lasciare firenze per sempre aveva 36 anni e la bibbia dice che l'uomo è fatto per vivere 70 anni ma lui non c'è arrivato è morto a 56 dopo vent'anni di esilio e nelle sue ultime opere parla di sé come di un vecchio con i capelli bianchi ma quei vent'anni che sono stati i più tristi e amari della sua vita sono i più importanti per noi perché in quegli anni dante ha mantenuto la promessa che aveva fatto a beatrice di scrivere su di lei quello che non era mai stato detto di nessuna però quello che ha scritto va anche al di là dell'omaggio alla donna che aveva amato senza speranza per tanto tempo ed è un patrimonio dell'umanità perché in quei vent'anni di esilio vagando fra bologna pisa verona ravenna fra la lunigiana e il casentino dante ha scritto quello che lui chiamava la comedia e che noi da boccaccio in poi chiamiamo la divina commedia nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita a quanto a dir qual'era e cosa dura e sta silva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura uomini siate non pecore matte o tosco che per la città del foco vivo così ten vai parlando onesto piaccia di divestare in questo loco la bocca sollevò dal fiero pasto il peccatoro forbendola ai capelli fatti non foste a vivere come brutti ma per seguir virtude e canoscenza la terra che fe già la lunga prova e di franceschi sanguinoso mucchio questi che mai da me non fia di viso la bocca mi lasciò tutto tremante l'amor che al cor gentil ratto s'apprende l'amor che muove il sole e le altre stelle l'amor che a nullo amato amare perdona poi s'ascose nel foco che li affina ai serve Italia di dolore o stelle nave senza nucchieri in gran tempesta a poca nostra nobiltà di sangue diverse lingue orribili favelle parole di dolore a centiniera libertà va cercando che si cara come sa che per lei vive la rifiuta così colà dove si vuote ciò che si vuole mi è stata un po' mi è stata una lempe la Romagna tua non è e non fu mai biondo era bello e di gentile aspetti e lì avea del col fatto trombetta puro e disposto a salire alle stelle e quindi uscimmo a rivedere le 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 stelle